Prendono avvio in questi giorni le attività di formazione per i docenti neoassunti con una novità importante rispetto agli anni passati. Questa volta infatti tutte le attività si svolgeranno esclusivamente online tramite la piattaforma disponibile nel sito dell'Indire. Gran parte della formazione riguarderà i fondamentali della didattica digitale integrata. Saranno coinvolti non meno di 25.000 docenti in anno di prova o perché sono stati assunti a settembre o perché hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Ma non sono queste le sole attività formative che coinvolgeranno i docenti italiani in questi mesi. Per gli insegnanti della primaria stanno infatti iniziando i corsi per conoscere meglio le nuove norme in materia di valutazione degli alunni. Come è noto si sta passando dal voto numerico alla valutazione formativa e all'autovalutazione, quindi è necessario che i docenti adeguino le proprie conoscenze sull'argomento. Ci sono poi le iniziative legate all'applicazione delle norme contenute nella legge 92 del 2019 sulla introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Per la verità il tema della formazione dei docenti è richiamato anche nell'atto di indirizzo per il 2021 firmato dalla ministra Lucia Azzolina. Nell'ambito della contrattazione collettiva per il personale docente, afferma la ministra, dovranno essere inserite disposizioni specifiche che possano garantire a ciascuna professionalità una formazione continua legata anche a percorsi di formazione obbligatori da documentare in un vero e proprio portfolio delle professionalità. Ma è proprio su questo punto che le organizzazioni sindacali si mostrano perplesse, se non addirittura contrarie. La formazione è materia contrattuale, ribadiscono i sindacati, e le modalità di attuazione non possono essere definite in modo unilaterale. La protesta c'era già stata alcune settimane fa, quando il governo aveva inserito nella legge di bilancio la norma sull'assunzione di 25.000 docenti di sostegno, aggiungendo però la clausola sull'obbligo di formazione esteso a tutti i docenti che operano su classi che accolgono alunni con disabilità. La formula utilizzata nell'atto di indirizzo però fa pensare che la ministra sia intenzionata ad affrontare la questione al tavolo contrattuale. Il tema è di grande interesse per tutti i docenti, quindi su questo noi ritorneremo, quindi continuate a seguirci sia su questo canale ma anche sul nostro sito www.tecnicadellascuola.it, scriveteci, mandateci le vostre osservazioni, i vostri commenti, noi ne daremo conto come al solito. Grazie.